Un filo rosso da seguire in un viaggio esperienziale alla scoperta della marca trevigiana, delle sue bellezze e dei suoi sapori. È il viaggio che hanno intrapreso i partecipanti del progetto di promozione online Hashtag Marca Treviso in Rosso, realizzato dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso in partnership con il Consorzio di Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP e l'azienda Ortoromi, che hanno coinvolto un gruppo di food blogger del network iFood e altri travel blogger provenienti da tutta l'Italia in un percorso tra ville venete, città d'arte, degustazioni ed eventi culturali offerti dalla marca. Il tutto all'insegna del colore rosso. In rosso perché naturalmente siamo nel periodo del Radicchio Rosso IGP di Treviso, perché siamo in un contesto territoriale che comprende le città di Treviso, le città murate di Treviso e di Castelfranco. In rosso per i colori dei pittori e degli artisti che hanno segnato questo straordinario territorio da Giambattista Cima di Conegliano piuttosto che Giorgione del Castelfranco. E ancora perché comunque è un modo di raccontare una offerta integrata che ha comunque per noi l'obiettivo di vendere emozioni, vendere territorio e avere più turisti, più arrivi, più presenze. Radicchio Rosso capofila di un progetto realizzato grazie al sostegno di Camera di Commercio di Treviso, Ascom, Comfcommercio, Comfartigianato, marca trevigiana, col diretti e un'industria Treviso. Più che un prodotto agricolo, un vero e proprio riferimento per tutto il sistema economico locale che ha ispirato i pasticceri trevigiani di Comfartigianato nella realizzazione di uno speciale dolce in rosso. È un dolce fatto con l'arte e la prelibatezza dei nostri pasticceri in provincia di Treviso, non è solo un dolce provinciale, è sconfinato anche in altre province, questo è molto positivo, ma soprattutto vive nel cuore di quel dolce il prodotto radicchio, sotto una forma un po' particolare che non siamo abituati a concepire, che non è amara ma è dolcissima. Quindi io vi consiglio, chi ne volesse assaggiare un pezzo, di poter frequentare quelli che sono i luoghi, le nostre pasticcerie, ma perché no anche i luoghi di integrazione come il Consorzio Turistico in provincia di Treviso. Non solo Rosso Radicchio, il gruppo di blogger ha potuto apprezzare tutte le sfumature dell'autunno a Treviso, che oltre al fascino naturale del suo centro storico, in questi mesi è protagonista di un vero e proprio rinascimento culturale con le mostre del progetto Treviso e la sua marca. La città di Treviso è già di per sé un grande museo a cielo aperto, poi ci sono le mostre, grandi mostre come quella di Escher, come quella di El Greco, ci sono due meravigliosi musei, Santa Caterina dove adesso c'è la mostra di Escher e il Bailo, il museo di arte non contemporaneo, diciamo di arte 800 e 900. Quindi abbiamo un'offerta assolutamente di prima qualità e di grande eccellenza e credo che i numeri che abbiamo visto in questi ultimi giorni confermano che il gradimento e l'attenzione dei cittadini e dei visitatori è molto alto. Dopo il successo di hashtag Marca Treviso in bianco si tinge di rosso la promozione del territorio trevigiano con un progetto che attraverso i linguaggi della comunicazione 3.0 ampia la gamma dei prodotti turistici della marca. Nei siti internet del sistema e in particolare in quello del consorzio Marca Treviso www.marcatreviso.it i clienti possono trovare i pacchetti confezionati, le offerte confezionate sia per le grandi mostre che in questo momento caratterizzano la città di Treviso, di Castelfranco, di Possagno, di Conegliano eccetera, ma anche legate appunto al fiore d'inverno, al fiore che si mangia al radicchio rosso di Treviso UGP. Grazie. Grazie.